Arrabbiati come non mai i comuni di Alberona, Ascoli, Satriano, Biccari, Candela, Deliceto, Sandagra di Puglia e Volturino per lo scippo perpetrato alle comunità del subappenino Daono da parte del presidente della regione Michele Emiliano e della sua giunta, che devono la metà della somma e delle royalties spettanti ai paesi su cui territori estragono e coltivano i drogarburi, a favore di chi invece non ha nulla a che fare con queste attività. 12 milioni rubati alla Capitanata che serviranno per la redazione del piano strategico per Tarando per lavori di riqualificazione dell'aeroporto di Grottaglie e per la realizzazione di un cavalcaferrovia nel comune di Massafra. Iniziativa certamente meritoria e che nessuno mette in discussione, ma per le quali si poteva e doveva attingere ad altri capitoli del bilancio regionale, e operando in maniera più trasparente e rigorosa senza stornarli da un'area depressa come il subappenino Daono. I 12 milioni sottratti alla Capitanata dovevano servire per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e di misure per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione a fronte del notevole impatto ambientale che i territori che hanno ospitato le attività estrattive hanno subito. Uno scippo vergognoso e intollerabile per i Monti Dauni, afferma il consigliere regionale Gian Nicola De Leonardis, che interviene con un'interrogazione urgente presentata ieri al Presidente Emiliano, con la quale chiede l'immediato ritiro per decenza e per responsabilità. E sarà soltanto la prima dell'iniziativa che prenderò, dice De Leonardis, per denunciare quando accaduto e scongiurarne gli effetti. Uno scherzetto preparato ad arte, premeditato dallo scorso mese di novembre, con una variazione di bilancio contenuta in una delibera alla 2084, che prevedeva la sbandierata attribuzione di 11 milioni di euro per sette comuni per le realtes legate agli idocarvuri, tacendo invece che i fondi complessivi erano 23 milioni di euro. E la legge regionale numero 7 del 2002 prevede espressamente che devono essere utilizzate per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di attività economiche, all'insediamento industriale e agli interventi di miglioramenti ambientali previste nelle aree di estrazione a diecenti e non altrove. Una legge che è stata ignorata e aggirata dai signori del palazzo di Via Capruzzi a Bari. Al grido della pentastellata Rosa Barone, che abbiamo rigorosamente riportato ieri, che invitava Emiliano e i compagni a rivedere la loro decisione, fanno eco il vicepresidente De Leonardis, il sindaco di Deliceto Antonio Montanino, ma anche l'esecutivo comunale foggiano, con in testa l'assessore Francesco D'Emilio, che dichiara la sua vicinanza alle popolazioni del subappenino d'Aulo.